Benvenuti, ben ritrovati, buon venerdì e speriamo che sia anche un buon fine settimana. Res Pubblica, Sicilia chiama Europa, quest'oggi va ad affrontare alcune tematiche che riguardano il Comune di Erice e quindi il territorio vasto e diversificato del Comune di Erice. In questa prima parte sono con il Vice Sindaco, Architetto Gianni Mauro, grazie Mauro per essere qui con noi. Visto che a tutti quelli che arrivano per la prima volta nella loro scenografia chiedo se abbiamo cambiato da architetto, quindi che ne pensi? Ma assolutamente mi sembra che sia un bel allestimento, complimenti, mi piace molto il monitor che c'è qua. Adesso infatti vedi sei pure bello in primo piano, adesso facciamo passare qualche immagine che riguarda il territorio. E allora, Erice, arrivano sempre finanziamenti, il grosso di questo lavoro, lo dico sempre chiaramente, non ne faccia mistero, obiettivamente è lavoro e grece prezioso del qui presente Gianni Mauro, un sacco di cantieri in corso e altri che stanno per essere aperti, un territorio che si rinnova e come dice la Sindaca viene migliorato. Abbiamo avuto l'ultima volta qui la Dania Toscano che ha presentato appunto il progetto sulla fontana certamente del lungomare d'Antelighieri, il verde pubblico che sta per essere, insomma, secondo questi progetti messo a sistema e migliorato. Un territorio che cambia? Sicuramente tanti cantieri aperti, frutto ovviamente del lavoro che in questi anni si è fatto, anche perché si vedono i frutti rispetto a quello che semini con molti anni dopo. Un'opera pubblica, prima che parte, prima che si realizzi in cantiere, ha un tempo di gestazione molto lungo, intanto dal recupero della finanza che è assolutamente importante per poi tutte le altre cose susseguenti, progettazioni, gare. Abbiamo lavorato molto in questi anni, stiamo raccogliendo i frutti, ma altri ancora ne aspettiamo, nel senso che non è finita qui, aspettiamo altri decreti di altre opere, di altri interventi, un po' su tutto il territorio, sia nella parte bassa della città, sia nel centro storico, insomma, come dire... Cioè, qual è il progetto e l'opera, o diciamo così, il progetto, l'opera, mi ripeto, l'idea di cui sei più orgoglioso, che proprio dice, guarda, per questa cosa veramente sono contento di avere speso quasi dieci anni della mia vita, finora, insomma, al servizio della comunità ericina. Ma guarda, secondo me è un progetto di rigenerazione che abbiamo portato in quel di San Giuliano, è un progetto che è assolutamente importante. Siamo partiti nel 2008 con l'istituzione della zona franco-urbana, questo è stato un primo traguardo e un primo obiettivo raggiunto. Che però, diciamo, non è stata molto utilizzata. No, nel senso che la zona franco-urbana a Erice ha dato la possibilità a 127 imprenditori di avere una somma da utilizzare come sgravi fiscali, circa 60-70 mila euro, che non sono cosa da poco. Le hanno già utilizzate in parte, forse sono già finiti, ma in tutti i casi quelle aziende che hanno partecipato al bando hanno avuto la possibilità di avere degli sgravi, sia sull'IRP, sull'assunzione, su tutto. Non penso che sia poca cosa. Questo ci ha portato nel tempo a elaborare una serie di strategie e di progetti che hanno visto una serie di interventi molto importanti. Ovviamente, come dire, è sempre poco rispetto a quello che serve, ma noi abbiamo fatto un contratto di quartiere da 6 milioni di euro, abbiamo sistemato 60 alloggi popolari, fatto urbanizzazioni, piazze, illuminazione, abbiamo utilizzato il piano per le città, altri 7 milioni, abbiamo riqualificato la pieta pescatori, abbiamo riqualificato la litoranea, abbiamo fatto interventi sul cosiddetto ferro di caballo, i lavori stanno finendo. Con il ribasso di questo importo di 7 milioni di euro andremo a realizzare questa famosa strada che costeggia il cimitero, che collega quindi la via Garraffa con la via dei pescatori. Andremo a realizzare... Quindi la stradina quella, proprio accanto, quella che passa a fianco alla Madonna di Fatima, la chiesa della Madonna di Fatima, di questo parliamo? Diciamo, il prolungamento della via Garraffa, che è adiecente, a confine con il comune di Trapani, dove c'è il cimitero, che poi si va a collegare con la via dei pescatori. Questo lo realizzeremo con il ribassi d'astro del piano per le città, così come faremo altri interventi sulle palazzine, su alcune palazzine del quartiere San Giuliano. Abbiamo in itinere il famoso programma integrato, social housing per gli studenti, con una serie di servizi. Abbiamo un incontro, gli uffici hanno un incontro domani con la ditta, che dovrà in qualche maniera... Domani e ieri in questo caso, perché noi stiamo registrando prima, ma vai in onda di venerdì, quindi ieri e giovedì. Così come un altro progetto che riguarda le aree per le periferie degradate, un progetto da 4 milioni di euro, prevede una struttura contro la violenza delle donne, più opere di urbanizzazione, più l'efficientamento energetico di tutta l'area della zona franco-urbana. Una serie di interventi. L'apertura della Baden-Paule, che abbiamo trovato distrutta. Mi ricordo nel 2007 il primo comizio che è stato fatto è stato fatto proprio sulla Baden-Paule, dove ci eravamo impegnati a realizzarla e a sistemarla e a ridarla al quartiere. E questo abbiamo fatto. Quindi una serie di interventi assolutamente importanti che hanno riqualificato quel territorio. Ovviamente tutto questo non basta, ce ne vogliono degli altri. Tutto questo è frutto di circa 10 anni di dedizione amministrativa al territorio, ma ormai hai un'esperienza di tutto rispetto, tante che l'architetto Gianni Mauro è stato dirottato per quello che può, ovviamente come tempo e come impegno, da Erice a Trapani come esperto a titolo gratuito del Comune di Trapani per una serie di finanziamenti, di progetti appunto finanziabili. Quindi ha un'esperienza di tutto rispetto. Servono davvero 10 anni per poter dare un voto nuovo, iniziare a dare un voto nuovo a un territorio? Assolutamente sì. Non è una cosa che tu hai, nell'ambito di un'amministrazione, devi avere il tempo per seminare, per raccogliere tutte quelle che sono le opportunità, anche perché vuoi vedere le amministrazioni non hanno molti soldi. Lasciamo stare Erice, che comunque sta facendo anche una serie di opere con soldi propri. Erice è ricco come Comune. Erice è ricco, per cui è molto appetibile anche da altri. Ma in tutti i casi noi abbiamo fatto moltissime cose con finanziamenti del Comune, con finanziamenti che arrivano dalla regione, dallo Stato e anche dall'Europa. I tempi sono molto lunghi, perché devi partecipare ai bandi, poi i bandi debbano fare le gradatorie, poi ci possono essere una serie di problemi all'interno delle gradatorie, poi deve essere fatto il decreto di finanziamento, poi deve essere fatto il progetto, poi deve essere fatta la gara. Tu guarda che io… Vedo che sullo schermo si è arrivato a girare le immagini dei pezzi storici di Erice, anche lì c'è lo zampino dell'architetto Mauro, della prima amministrazione tranquilla. Però era un progetto che risaliva anche a prima, questo diciamo. Noi non abbiamo privilegiato un territorio, ma abbiamo cercato di privilegiare tutto il territorio, lì dove era possibile poterlo fare. Ovviamente il centro storico di Erice è il fiorollocchiello del Comune di Erice, su questo ci siamo spesi, io in prima persona mi sono speso per farlo entrare all'interno dei borghi più belli d'Italia, siamo ospiti onorari, perché per lo statuto dei borghi non possiamo essere effettivi, perché siamo superiore a 15 mila abitanti, però ovviamente hanno accolto le nostre proposte, la nostra intenzione di far parte di questo club e siamo dentro già per la terza volta, sempre come soci onorari. E questo ci ha permesso anche attraverso la regione che sui borghi ha fatto anche una legge speciale, per cui ogni anno noi riceviamo, abbiamo ricevuto finché saremo all'interno dei borghi, non possiamo esserci sempre con onorari, potremmo avere qualche anno di pausa per poi rientrare, ma già è da due anni che essendo all'interno di questo club ed essere quindi nei borghi più belli d'Italia in Sicilia, riceviamo anche dei finanziamenti che ci permettono di attivare una serie di promozioni sul territorio. Ma sul centro storico abbiamo fatto anche tanto, abbiamo aperto tutti i siti museali, quando siamo arrivati nel 2007 era tutto chiuso, il castello chiuso, non c'era nulla, c'erano tante cose che in effetti erano state fatte dalla precedente amministrazione, però era tutto chiuso, il caffè house, il quartiere spagnolo. Il quartiere spagnolo però è ancora chiuso, avete aperto ma poi si è ritornati a chiuderli, a non farli vivere. Il quartiere spagnolo non è chiuso, il quartiere spagnolo c'è nella parte museale, c'è un museo a piano terra, c'è un museo del mare a primo piano. Ma non ci sono servizi, per esempio, a fiancati? Abbiamo ricevuto, le cose come ti ho detto si fanno piano piano, noi abbiamo ricevuto un finanziamento da 100 mila euro da parte del flag per andare a fare, a completare l'intervento che avevamo fatto del museo del mare nella parte superiore del quartiere spagnolo, dove in quella zona bar verrà fatto un punto di ristoro, quindi con una cucina, abbiamo già una bozza di accordo anche con l'istituto alberghiero, affinché si possa essere questa sinergia fra la fondazione che gestisce i siti del comune di Erice e l'associazione che a suo tempo ha vinto la gara per la gestione di questo spazio e con questo finanziamento di 100 mila euro e con anche l'alberghiero che in qualche maniera collaborerà, noi potremmo avere un punto di ristoro a servizio dell'aspetto museale che invece sta andando a parte. Attenderemo, attenderemo. Poi, per esempio, abbiamo riportato l'alberghiero al centro storico. Con una scuola di tutto rispetto, assolutamente una specializzazione. Adesso hanno istituito anche un corso di studi assolutamente importante. Daremo, perché abbiamo ristrutturato il San Carlo, che era abbandonato, non so se conoscevate o avevate mai visto com'era. Per cui abbiamo fatto una serie di piccoli interventi sul centro storico di rivoluzione. Vice sindaco, tutto questo lavoro non è colpa diretta o esclusiva all'amministrazione, però tutto questo lavoro purtroppo ancora non è riuscito a far ritornare a vivere i cittadini nel borgo storico di Erice. 200 anime circa, quasi un borgo fantasma. Ma lì è un problema, come dire, atalico. Nel senso che, leggiamo spesso, sentiamo spesso, anche l'altro giorno, mi sembra, su TGR, c'era un comune che aveva messo a disposizione le case per un euro per chi vuole insediarsi in quel borgo. Adesso non ricordo qual è il paese. Il borgo era un borgo della provincia di Catania. Però da noi abbiamo un problema. Io quando ero studente di architettura feci uno studio su Erice. Ovviamente parliamo di tantissimi anni fa. Un po' ieri, l'altro ieri, quando eri un po' più gioco. E quindi ho analizzato, come dire, il territorio, il centro storico, specialmente perché, diciamo, l'intervento era la materia della storia dell'architettura, quindi mi sono incentrato sul centro storico e ho fatto un'analisi del centro storico. Ovviamente a questa analisi corrispondeva anche un'analisi demografica e già in quel periodo c'era questo spopolamento del borgo. Però, assieme a questa analisi, ho fatto anche un'analisi dei costi delle case. E la cosa, come dire, che poi il professore mi disse, ma voi siete un po' strani a Erice. Io gli ho detto, ma perché professore? Perché in tutti i paesi, in tutti i borghi dove c'è lo spopolamento i prezzi delle case non salgono, ma scendono. Cosa invece diversamente da quello che è accaduto a Erice. Quindi a Erice ci troviamo ad avere un patrimonio edilizio non indifferente. ci sono circa 8 mila vani. Quindi significa che questo borgo può ospitare intorno a 5-6 mila persone. Oggi ce ne stanno 200. Le case non sono del comune di Erice, sono di proprietà privata. La maggior parte degli ericini, nel periodo di speculazione edilizia che c'è stata a Balle, hanno preferito vendere le case per poter andare ad acquistare appartamenti e con i soldi che hanno venduto, cioè lì si vendeva a 5 milioni ai tempi della lira a metro quadro, giù costava molto molto di meno. Quindi queste persone hanno venduto romani, palermitani, cioè gente che poi viene, se viene, una volta al metro, una volta svuotato la città. È ovvio che non è semplice. Perché poi, come dire, un altro problema è che il centro storico si trova a un quarto d'ora, 20 minuti dalla città. E quindi è ovvio che le persone hanno deciso, per comodità, perché ovviamente vivere in un borgo è sempre, come dire, difficoltoso. Non è la stessa cosa vivere in una città dove c'è più servizi, ha meno problemi di trasporto, di collegamenti, hai tutta una serie di cose che ovviamente nei borghi in genere non solo hai, lì ce non hai. Ecco allora che hanno deciso di abbandonare il centro storico per andare a vivere in città. Io sto lavorando, ho lavorato, spero che possa andare in porta su un altro strumento che potrebbe essere, come dire, un richiamo per attività commerciali nel centro storico, conseguentemente anche la possibilità alle persone, nell'ambito poi dei regolamenti che verranno attuati, di un obbligo di residenza, mi riferisco alle zone franche montane. Nell'impianto originario delle zone franche montane, quando iniziò questo percorso, articolo 1 scriveva che potevano essere zone franche montane i comuni con una popolazione imperiore a 15 mila abitanti, ma è posto a un livello di 500-600 metri dal livello del mare. È ovvio che per questo nostro problema, che abbiamo anche, come ho detto prima, sul discorso dei borghi più belli d'Italia, il comuno indirizzo non sarebbe rientrato. Sono riuscito, attraverso un'interlocuzione con i promotori di questa legge, a far cambiare l'articolo 1, andando a far inserire il fatto di comuni con popolazione imperiore a 15 mila abitanti o porzioni di territorio con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e posti a 500 metri dal livello del mare. Questo è il momento in cui la legge sarà approvata, in questo momento in discussione in una commissione parlamentare, potrebbe dare la possibilità al Comune di Erice di utilizzare questo strumento delle zone franche montane, che è uno strumento di fiscalità di sviluppo e che potrebbe incentivare le aziende e le persone a potersi trasferire. Hai sottolineato due aspetti che in questi giorni sono ritornati, non proprio questi aspetti, però adesso se li mettiamo nel calderone delle valutazioni, sono ritornati in Auge, la rettifica dei confini fra Trapani e Erice, la fusione dei due comuni in una sola, tra virgolette, grande città. Erice, 30 mila abitanti circa, non può essere inserita a pieno titolo fra i borghi più belli d'Italia perché c'è il limite di 15 mila abitanti e quindi Erice è ospite, come diceva il vice sindaco. Non poteva e non può di fatto usufruire delle zone franche montane perché bisogna essere... Non poteva. Non poteva, in questo momento ancora non lo sappiamo, è in discussione perché c'è lì il limite di popolazione ed Erice con i suoi 30 mila abitanti a meno che non viene approvata questa deroga, diciamo così, particolare e rischia di perdere tutta una serie di agevolazioni. Ma a questo punto non è meglio insomma rivedere un pochino l'asset amministrativo di questi due territori che sono un unicum, Trapani ed Erice? E mi rivolgo non tanto al vice sindaco ma all'architetto. Allora intanto questo è un problema che spunta puntualmente ogni volta che si avvicinano le elezioni amministrative. Oggi più che mai è spuntato perché il comune di Trapani per scelte dei cittadini comunque, al di là delle scelte politiche poi c'è stato un momento anche, un momento in cui i cittadini potevano esprimere la propria opinione e dire sì o no a questo tipo di proposta fatta da un comitato, quello di Misili Scemi. I cittadini trapanesi hanno scelto di abbandonare Misili Scemi a suo destino, nel senso che non andando a votare al referendum di fatto hanno conclamato la creazione del nuovo comune e quindi la perdita di 8 mila abitanti. In questi giorni dopo questa notizia che la regione Sicilia ha approvato questa cosa, subito come per effetto della pancia, diciamo abbiamo perso 8 mila persone, vediamo di guadagnarne. Non può essere limitato solo a questo, è la tua opinione, io capisco. Detto questo, a prescindere che il comune di Erice ha fatto comunque a suo tempo il referendum, dove anche lì i cittadini non si sono espressi e quindi non hanno superato quel quorum che permetteva di poter iniziare un percorso di, non tanto di fusione ovviamente, ma di riconfigurazione dei confini. Tu mi chiedi, sono architetto, io ti rispondo da architetto. Appare ovvio, è talmente scontato, che dividere una città da una strada ovviamente non è, a prescindere che in Italia ci sono tanti altri casi di questo tipo, quindi non siamo i soli, non siamo un unicum, tante altre realtà hanno la stessa problematica. Eppure è vero che dal punto di vista urbanistico mi sembra ovviamente chiaro che la città è tutta una, cioè dal punto di vista urbanistico non si può negare. Quello che penso io, ma questa è una mia opinione personale, che mentre prima le linee di confine dei territori venivano delimitati da corsi naturali, da cose naturali, un fiume, un crinale, una montagna, e questo determinava un po' che, non dimentichiamo che il comune di Erice era uno dei più grossi comuni d'Europa, perché arrivava fino a San Vito, Custonaci, cioè era un comune che poi negli anni 50 è stato smembrato e sono nati diversi comuni. Detto ciò, è ovvio che la città si è ingrandita, quelle linee di confine che erano linee naturali e adesso sono strade. Io sarebbe secondo me più opportuno iniziare a discutere e a pensare su un assetto territoriale della provincia di Trapani. Nel senso che ci sono delle discrasie, non dimentichiamo una cosa, perché adesso non più, ma prima ancora che si costituisse comunque, che in procinto di costituirsi questo nuovo comune di Misliscemi, il comune di Trapani non aveva una sua continuità territoriale, perché c'è il comune di Pacego che taglia in mezzo. Quindi significa che comunque in questo territorio nel corso degli anni sono verificate delle cose che hanno… Anche il comune di Ierice, da Trapani per arrivare a Fulgatore si passa nel comune di Ierice, come no? Da Napola. Sì, c'è anche quell'enclave a Fulgatore dove ci stanno mille persone che sono dal comune di Trapani. Per cui ci sono delle cose che vanno riviste, ma andrebbero riviste in una chiave un pochettino più ampia, dove inizi a guardare i territori e comprendi quale potrebbe essere un assetto territoriale che abbia anche un'idea di sviluppo. Pensare alla fusione così, perché non si capisce nemmeno per quale motivo. Io posso dire una cosa, che il comune di Ierice è un comune sotto 30 mila abitanti e dal punto di vista dell'opportunità finanziare che i bandi europei, statali, nazionali danno, ha un suo bacino. Cioè nel senso che generalmente i finanziamenti, specialmente quelli che riguardano la rigenerazione urbana, cosa di cui io mi occupo, prevedono generalmente sempre interventi per comune sotto 30 mila abitanti e interventi per comune sopra 60 mila abitanti. Tu poco fa hai citato che io sono stato nominato consulente a titolo gratuito del comune di Trapani, ma sono stato nominato consulente a titolo gratuito proprio per uno specifico progetto su cui sto lavorando e questo programma è innovativo sulla qualità dell'abitare. È un progetto che riguarda solamente i comuni con popolazione maggiore di 60 mila abitanti o capologo di provincia. Mentre per esempio, per alcuni progetti che abbiamo portato su Ierice, i bandi erano previsti solamente per comuni inferiore ai 30 mila abitanti. Non è che tu metti assieme le città e questo ti permette di accedere a più finanziamenti. In questo caso noi abbiamo due comuni contigui che accedono a diverse linee di finanziamento anche in funzione della popolazione. Io sto lavorando su Cappuccinelli perché questo è quello che il comune ha deciso di intervenire e lo stiamo facendo perché noi possiamo partecipare un bando per una città superiore a 60 mila abitanti. Qualcuno ha posto il dubbio, ma ora se ne va a Misericino. No, è anche per capologhi di provincia, così siamo rassicurati. Perfetto, abbiamo tagliato la testa al tono. Vice sindaco Gianni Mauro, a proposito di grandi città, di differenze, di confini dettati da una sola strada. Noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi con l'assessore vice sindaco Gianni Mauro perché in redazione qui a Tresudo ho ricevuto, era già da tempo che questo imprenditore che opera nel campo degli infissi, per gli appartamenti, per edifici pubblici e quant'altro, mi sottoponeva un problema serio. Dice guarda è una cosa strana, il fatto che Trapani ed Erice a valle siano separate per tutto il territorio da un'unica strada e come sappiamo in quella strada a destra per dire sono trapanesi, i dilimpettai invece sono ericini, qua non si capisce più nulla perché quelli di Erice pagano molto di più rispetto ai trapanesi. Per esempio adesso che c'è lo sgravi famoso 110% per il cappotto, se devono fare gli infissi, se devono proteggere energeticamente il loro appartamento. Parliamo praticamente delle zone climatiche. Mi ha spiegato, mi ha dato carte alla mano appunto questa discrasia fra Trapani ed Erice. Le zone climatiche non vengono stabilite ovviamente da così d'amblè dagli amministratori locali ma dal Dipartimento specifico appunto a livello nazionale. Ad Erice, il territorio di Erice è stato individuato come classe, come zona climatica più alta rispetto a Trapani perché si è fatto riferimento alla vetta ovviamente, cioè si va a prendere la temperatura, adesso non solo dico in parole molto semplici. No, si va a prendere la quota altimetrica del palazzo municipale. Si va a prendere la quota altimetrica del palazzo municipale e come sapete è lassù in vetta e sulla base di questa quota altimetrica vengono stabiliti i parametri per tutto il territorio comunale. Cioè quanto deve essere spesso il cappotto, quanto deve essere spesso il vetro, quanti e come devono essere fatti gli infissi, tutto ciò è stato ovviamente omologato per l'intero territorio comunale di Erice. Solo che in via Marconi, me ne metti le immagini di via Marconi qua sotto nel monitor grande se l'abbiamo pronta, in via Marconi ad esempio una strada fra le tante, a destra per dire abitano trapanesi e hanno un parametro di zona climatica rapportato e ovviamente la città di Trapani nettamente inferiore di almeno due categorie al di sotto. Di fronte i di Rimpettai hanno appunto due punti in più di svantaggio in questo caso, quindi costa molto di più realizzare lo stesso prospetto, gli stessi infissi da un lato della strada e dall'altro. Mi sono sentito con l'architetto Gianni Mauro, vice sindaco, ho detto guarda c'è questo problema ma il Comune di Erice che fa? Vi devo dire, nell'arco di una settimana Gianni Mauro mi chiama e mi dice sai forse ho trovato la soluzione. Intanto spieghiamo precisamente, perché io non ci riesco, non faccio il tecnico, spieghiamo precisamente la questione. Però andicchia di polemica me la devi consentire. Andicchia di polemica. Se tu hai parlato di Trapani via Marconi, via Marconi. Ho preso una strada via Marconi. Ma io ti potrei dire anche per esempio il Comune di Erice è combinante con il Comune di Valderice, anche lì c'è lo stesso identico problema, nel senso che il Comune di Valderice è una zona climatica C, anche perché lì viene considerato l'altezza, la quota del palazzo municipale e quindi C è fino a Bonagia, però siccome c'è un confine con il Comune di Erice, quindi anche lì, mentre quelle di Erice sono D, quelle di Valderice sono C. Quindi lo stesso problema c'è su Valderice e quindi potremmo anche allargarci. No, non funziona così. Allora, sulla scorta di questo io devo dire che tanti anni fa avevo, perché mi avevano posto questa problematica. Ovviamente oggi è più cogente che mai perché con tutto quello che sono gli ecobonus, il 110, ma anche gli altri strumenti di agevolazione per quanto riguarda l'efficientamento energetico, questo problema si pone maggiormente. La legge che istituisce le zone climatiche prevede una possibilità che è quella che il Sindaco, ma lo prevede solo in un caso, nel caso in cui, che è una cosa molto strana su cui mi ero fermato, oggi ho cercato di approfondire questa cosa, quella norma prevede che se un comune ha una zona climatica riferita appunto alla quota del palazzo municipale e ha territori che stanno più in alto, può chiedere, facendo un'ordinanza o un decreto, può suggerire la modifica della zona climatica, ma la norma parla se ho territori più in alto. Da noi al contrario, nel senso che noi abbiamo territori più in basso e quindi questo mi aveva in qualche maniera bloccato. Sulla scorta della sollecitazione che tu mi hai fatto, io ho cercato di parlare con l'Enea e sono riuscito a parlare con un funzionario dell'Enea e gli ho posto la problematica e gli ho detto che la norma mi dice che io potrei fare questa cosa solo se esclusivamente se c'ho dei territori più in alto dalla quota, quindi dovrei aumentare il grado da D andare a E per esempio, ma qua siamo nel caso contrario, quindi io sto cercando di proporre di andare a sezionare il territorio in funzione delle quote, in modo da assegnare quote diverse alle varie altitudini. Che ne pensi? Lui mi ha detto, ma guarda è una cosa che secondo me si può fare e quindi io ritengo che questo possa essere, anche perché non ho trovato nessun altro tipo di norma che mi permetta di fare quella, non sono andato con quella norma e così siamo al sindaco, il sindaco ha fatto un decreto in cui abbiamo individuato tre fasce climatiche da 0 a 150 metri, ci occupariamo alla fascia, in altezza parliamo, 150 metri di altitudine, sul livello del mare, fino a 150 metri ci uniformiamo alla città contigua che è quella di Trapani, quindi fascia B, da 150 a 400 metri andiamo in C, così come Valderice e da 400 in poi rimane ovviamente D. Abbiamo fatto questo decreto da parte del sindaco, adesso lo invieremo all'Enea e al Ministero dell'Industria, almeno questo decide la legge, sto cercando gli indirizzi perché nel frattempo parliamo di una legge del 93, quindi capire qual è il dipartimento o meno, se nel momento in cui la inviamo, entro 90 giorni non ci viene data comunicazione o di approvazione di questa proposta o quello che ci vogliono dire, ma se entro 90 giorni non rispondono, il sindaco poi, come dire, questa cosa diventerà effettiva e quindi sul territorio si potrà operare in questo senso. Quindi in un certo senso, siamo lì vicini a risolvere un problema? Penso che non ci dovrebbe essere problema perché è oggettivo, è oggettivo voglio dire, purtroppo però, ma lo stesso problema... La stampa a volte funziona, mi capita troppo spesso attivamente, suggerisco anche ai comuni del... anche perché, ripeto, in questi anni abbiamo sempre lavorato in sinergia con gli altri comuni indipendentemente, sia dai confini che dai confini politici, ovviamente, e abbiamo sempre cercato di suggerire ai territori opportunità che magari loro, in qualche maniera, anche perché un amministratore delle cose possono anche... Beh, hai avviato la strada come... Suggerirei anche al comune di Valderice, al comune di Gustonacci che vivono la stessa... Di organizzarsi e fare la stessa cosa. Bene, sono contento, complimenti. È stato con noi il vice sindaco di Erice Gianni Maura, adesso ci sono due consiglieri di Erice, uno dell'opposizione e uno della maggioranza, vuoi dire qualcosa in 10 secondi? Eh, chi? Lo scoprirai. Ma... non... cosa posso dire? Io lavoro... cerco di portare il massimo all'interno del territorio dove amministro e, ripeto, ho lavorato e collaboro anche con gli altri comuni dell'angolo vicino e non solo, quando ci sono delle cose che sembrano lo sviluppo il territorio. Non mi pongo il problema del confine, ma mi pongo il problema che il territorio si sviluppi nella sua interezza, perché se i turisti vengono qua, ammirano le bellezze di Erice, ma anche quelle di Trapani, di Valderice, Gianni Maura di Gustonacci. A me questo interesse serve. Quindi? Quindi io... non so cosa posso dire ai consiglieri. Buon lavoro. Buon lavoro. grazie, vice sindaco di Erice, architetto Gianni Mauro, in questa prima parte di Res Pubblica. Lo ringraziamo, lo facciamo alzare e facciamo sedere appunto due altri consiglieri comunali di Erice. Grazie a voi e buona serata, buona continuazione. Ed eccoci qua con la seconda parte di Res Pubblica Sicilia chiama Europa. Ci soffermiamo, come ho appena finito di dire ancora, sullo territorio comunale di Erice. In studio ho il piacere di avere due consiglieri comunali, in particolare Michele Cavarretta, ben ritrovato, Cavarretta e Alessandro Manoguerra, ben ritrovato anche ad Alessandro Manoguerra. Abbiamo dato spazio all'amministrazione comunale con il vice sindaco Gianni Mauro, che abbiamo appena salutato. Mi sembrava corretto, insomma, ascoltare anche in questi 20 minuti circa la voce della minoranza, o vi devo chiamare opposizione, Cavarretta. Preferite minoranza o opposizione? Ma guarda, minoranza e opposizione? Io direi opposizione perché minoranza vuol dire che sei inferiore a qualcuno, ma noi siamo invece una opposizione che è capace, che si fa sentire, che non contesta sempre l'operato dell'amministrazione. Perché fare opposizione io penso che se le cose che vengono proposte vanno sempre a vantaggio dei cittadini o sono delle informazioni o delle situazioni positive vanno anche condivise quando sono fatte nel modo giusto. Opporsi vuol dire portare avanti anche delle idee che possono essere anche condivise dalla parte dell'amministrazione della maggioranza, però spesso e volentieri quando tu proponi qualcosa o non contesti, ma la vedi in un altro modo e viene vista in maniera diversa, non in maniera propositiva. Quindi è una posizione molto costruttiva. Vediamo se lui è un po' più monello. Perché esiste una maggioranza? Oggi sì, a quanto pare oggi esiste. Bisogna dire la verità. Certo, è una maggioranza un po' lavorata, nel senso che un po' di movimenti ci sono stati in questi anni di dimissioni, contro dimissioni e poi oggi si è raggiunta una quadra. Ma comunque lasciando stare questo, dice bene Michele, siamo opposizione, non siamo minoranza, questo è sicuro, perché siamo stati molte volte determinanti per questa maggioranza e per questa amministrazione. Perché le nostre idee, i nostri contributi hanno portato a dei fatti, a delle cose serie. Ad esempio, quando si parla di campus universitario, grazie ai nostri emendamenti si è approvato un grande progetto. L'avanzo di amministrazione sulle strade siamo stati anche noi protagonisti anche in questo e in tante altre cose, con delle emozioni che abbiamo portato avanti, anche con Michele Cavarretta, con la consigliera Mannina, col consigliere Vassalle e con tutti gli altri di opposizione, che hanno cercato soltanto di dare delle soluzioni alternative in più a questa maggioranza, che bisogna dire la verità, in questi anni non è che è stata una delle migliori, nel senso che ci sono stati, come dicevo prima, tanti cambiamenti, però è una maggioranza piatta, che non ama il confronto, questo è sicuro, e noi cerchiamo soltanto di fare il bene del territorio, che è quello che a me, penso, a tutti i consiglieri interessa. Due movimenti civici rappresentati dai qui presenti, il movimento civico Cives, appunto Michele Cavarretta, l'acquisizione ormai assodata, quella del movimento Via, per quanto riguarda Alessandro Manu Guerra, ma è tempo secondo voi ancora di continuare a parlare di civismo, Cavarretta e Manu Guerra? Ma guarda, personalmente reputo che a oggi quei valori politici che c'erano una volta quando io ho intrapreso questa carriera vent'anni fa e ancora che erano consideratissimi i vari schieramenti di destra, sinistra, centro e tutto il resto, oggi si vanno a costituire questi movimenti civici perché anche parte dei cittadini che non si vogliono legare, reputo alla politica, ma che all'interno però sono convinto che... Quindi alle sigle, ai simboli dei partiti. Ai simboli dei partiti, nel senso delle singole liste, però che all'interno di questi movimenti civici ci vuole anche la parte politica che non traina, perché deve essere obbligatorio, ma che porti un po' di esperienza politica, che è aggregata alla cittadinanza con idee di cittadini liberi e tranquilli che vivono il territorio, secondo me è una sorta di situazione positiva. Il movimento civico, secondo me, può andare ancora avanti perché, ti ripeto, ha una sorta di non indirizzo obbligatorio politico, anche se reputo che all'interno dei partiti politici ci sono poi le varie correnti che la pensano in maniera diversa e che sia così in democrazia. Questo non è contestabile. Però il movimento civico, Civese nasce tanti anni fa proprio con lo scopo di mettersi a disposizione inizialmente del territorio, nelle varie ambiti sociali, turistiche, anche problematiche della città. Poi ha voluto intraprendere questa strada di candidarsi all'interno di una coalizione per portare anche una ventata di esperienza o di idee nuove e questa è stata la scelta. Io ripeto che oggi, come tutti i movimenti che stanno nascendo anche per altre tipologie di motivazioni all'interno del nostro territorio provinciale e locale, parlando poi di Trapanierice, vuol dire che è qualcosa che, se nascono, vuol dire che è qualcosa che può essere positiva. Mano Guerra nasce proprio con Nati Liberi, il movimento di famiglia, perché è la verità, certamente, poi transitato appunto nel valore impegnazione, così si chiama il movimento via del senatore Papanier. Posso? Ne hai facoltà. Grazie. E allora, per quanto riguarda i movimenti civici in sé per sé, secondo me danno qualcosa in più alla politica. Mi spiego meglio. In questi anni si è dimostrato che il movimento civico serve, basta vedere i risultati che si sono conseguiti a Trapanierice, eccetera. Tutti hanno un movimento civico alle spalle. I partiti, in questo momento, devono essere, secondo me, bravi un po' più a raccordare tutte le persone che ci sono all'interno. Cercare di non andare contro la persona in sé per sé, ma cercare di portare al mulino, diciamo, un futuro che verrà. Perché il movimento via? Tutti mi hanno fatto molti questa domanda. Io penso che il mio movimento Nati Liberi, intanto che ovviamente in questo momento, tra virgolette, non esiste più, ma tutte le anime politiche che c'erano dentro il movimento Nati Liberi sono transitate, ovviamente, parlando con delle riunioni effettuate in smart working, in questo momento questo si può fare. Abbiamo cercato e fatto capire un po' qual è l'obiettivo. È un progetto, secondo me, molto ambizioso che raccoglie, ecco, ad esempio, il movimento via raccoglie tantissime anime politiche. Da chi è stato in questi anni con l'onorevole Nino Papania, perciò appartiene a una corrente politica diversa, a chi in questo momento è stato di centrodestra e sposa le idee che ci sono all'interno. Ad esempio, io sono stato sempre di centrodestra, sto sposando un progetto ambizioso che, secondo me, con l'umiltà che contraddistingue queste persone e contraddistingue me che siamo all'interno, può arrivare a un grande risultato in tutta la provincia di Travano, ne sono più che sicuro. Su Erice è importante, secondo me, cominciare a lavorare già da ora. Io già lo sto facendo, non deve prendersi in giro, io già lo sto facendo in maniera tranquilla, in maniera umile, al servizio dei cittadini come sempre. Bisogna fare un grande progetto civico, come lo è stato fatto anche a Marsala, si è vinto così, parliamoci chiaramente. Via a Marsala è stata determinante, col 20% più, perché bisogna dire le cose come stanno. Contrallista. Ma noi, la cosa che ci deve caratterizzare non è stato determinante Alessandro Manuerra, bisogna essere umili, bisogna dare il contributo per far sì che si cambi veramente. Va bene, a proposito di contributi, in un certo senso quasi, insomma, un sinonimo di finanziamenti, consentitemi questa associazione. Avete ascoltato prima le parole del vice sindaco Gianni Mauro, che c'è stato qua prima di voi, continuano ad arrivare finanziamenti, lui è uno degli artefici, insomma, di questa rinascita economica, certamente, non possiamo negarlo, insomma, del comune di Erice, un bel po' di soldi accantonati, la città è un cantiere aperto, e lui è orgogliosissimo. Voi che ne dite? Chi parla? Io, io. Sì, non... Ma guarda, come dicevi tu, direttore, davanti agli occhi di tutti, che l'operatività, in questo momento del vice sindaco, che già veniva da dieci anni di amministrazione, quindi oggi questa amministrazione sta raccogliendo le programmazioni fatte e i frutti e i semi che avevano, diciamo così, seminato negli anni passati. Stanno ancora oggi riprogrammando tante altre situazioni, perché leggiamo il giornale, quindi provano nei bandi per cercare ancora di più, migliorare la città. E quindi ne va dato atto, non si possiamo nascondere dietro questa... cioè, sarei falso dire... non è così, cioè, perché bisogna essere anche oppositori, ma avere la consapevolezza e l'onestà intellettuale, non solo politica, di dare atto a quello che è. La cosa è che dispiace che in un contesto di condivisione dell'elementualità, anche se uno fa parte dell'opposizione, non vuol dire che è il nemico politico, parlo. Potrebbe anche essere una sorta di coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale, perché se lo scopo è quello di realizzare positività nel territorio, io penso che tutte le forze devono anche collaborare, perché l'idea di uno potrebbe essere anche l'idea di un altro. Quindi non siamo in una seconda fase di più apertura, per esempio da parte della sindaca, dell'amministrazione. A me sembrava che si stesse arrivando a questo. C'era stata, la parte nostra è stata sempre la parte che si è sempre proposta, da un punto di vista sì, di pungolare l'amministrazione negli errori o nelle mancate programmazioni o nelle cose che sono sfuggite. Voi eravate l'assessore, giusto? Ci verserà una delle liste di maggioranza. Noi abbiamo fatto parte di questa coalizione, perché abbiamo sposato il programma, programma che non è tanto portato a termine. Il fatto di essere passati dall'altra parte non vuol dire che noi oggi contestiamo, nel senso che quando tu fai parte di un gruppo e tecnicamente non vengono condivise le tue idee, non vengono condivise le tue proposizioni, e allora io sono del parere che è meglio tirarsi fuori che far parte di un gruppo dove tecnicamente non puoi contestare all'interno del gruppo. Allora abbiamo fatto la scelta perché c'erano già delle discordanze e delle idee, ci siamo messi in opposizione per una questione politica, di non avere più condiviso alcune idee, e da lì abbiamo iniziato un altro percorso sempre di attenzionare. Ma dall'altro lato non c'è rispondenza? Non c'è rispondenza, che abbiamo più volte anche chiesto in Consiglio Comunale di condividere se c'è l'opportunità di idee. Ecco perché a volte la non contestazione della proposizione di una delibera o di un qualcosa non è perché si contesta per partito preso, perché si hanno altre idee che potrebbero essere anche positive. Certo, questo è naturale. Alessandro Manoguerra. L'orista intellettuale mi porta a dire che l'assessore Gianni Mauro Pererici in questi anni è stata una risorsa, assolutamente, per questo viene magari anche disturbato dai comuni limitrofi. Parliamoci chiaramente. Io sono onesto e dico la verità. Secondo me senza Gianni Mauro in questi anni, Erice non è quello che in questo momento è. Ci siamo? È stata una risorsa per questa amministrazione e sicuramente anche per quelle passate. In questa amministrazione senza Gianni Mauro vedo poche qualità in tutti i settori, dico la verità. Perciò è l'unica nota positiva. L'unico che saldi? No, l'unica nota positiva. Ovviamente non condivido il suo modo politico, ma ognuno ha le sue idee. Però a livello tecnico, ecco, di quello che sa fare, devo dire che è l'unica risorsa di questa amministrazione, a mio parere personale, è l'unica nota positiva di questi anni. Per quanto riguarda la maggioranza e l'opposizione, Michele è entrato nel dicembre 2019, giusto? Io sono qui dal 2017 e so un po' che il clima si è respirato in questi anni. È un clima sbagliato, è un clima di muro, non contro muro perché noi non andiamo contro, cerchiamo di proporre soltanto. A volte si è sbagliato da ambo le parti, ci siamo, perché non bisogna dire mai ha sbagliato la sindaca, ha sbagliato la maggioranza. Beh, i toni sono stati accesi fin troppe volte. Assolutamente sì, condivido in pieno. A volte in consiglio si sono sfiorate delle situazioni un po' brutte, da non far vedere a nessuno e che non apportengono alla politica. La politica è confronto, però direttore, quando poi ci sono altri problemi che vanno dopo la politica, beghe personali e altro, a volte non si scorda di questo. E qualunque proposta viene fatta da questa minoranza, io parlo per me intanto, parlo di Alessandro Manoguerra, posso parlare tranquillamente anche a nome di Simona Mannina sotto questo aspetto e devo dire che qualunque proposta che noi abbiamo fatto per il territorio, e ce ne sono tante, direttore, ora l'ultima ho presentato una mozione su un contributo che deve dare il Comune di Erice a fondo perduto ai ristoratori, a tutte queste attività di commercio ai ristoratori, che prossimamente sarà in consiglio, spero che venga trattata e venga approvata all'unanimità perché è una cosa che può aiutare le attività commerciali. Ecco, quello che le voglio dire, idee, idee, quello che noi stiamo cercando di fare. Anche a settimana scorsa avete approvato all'unanimità la mozione per l'insoluzione del parco giochi inclusivo a Nino Ingrasciolta. Assolutamente sì, assolutamente. Altra mozione, abbiamo approvato un'altra mozione fatta da me e dalla consigliera Mannina sui voucher che poi non sono stati dati. Quindi non è vero che c'è il muro contro muro? No, io non parlo a livello di... Appunto per questo dico, quando ci sono delle iniziative importanti che alla fine aggregano tutti, perché l'obiettivo è quello sempre di dare lustro alla cittadinanza o a chi ha lavorato, si è speso, come nel caso dell'intitolazione lì al parco giochi a una persona che veramente ha dato tanto per questo comune, non puoi non essere che in condivisione con tutti. Però spesso e volentieri, quando ci sono delle iniziative o delle proposizioni volute proprio anche a inserire all'interno delle scelte dell'amministrazione, allora c'è un po' di rigidità perché è come se tutti volessero levare dello spazio per prendere visibilità. La cosa che voglio dire non è assolutamente un appunto andare contro l'amministrazione, assolutamente no. Voglio dire che in questi anni, forse ora lei ha detto bene, ho visto in consiglio, anche su questa emozione che di solito si poteva andare alla lite, ho visto un po' più di buonsenso, questo devo dire la verità. Quello che non c'era fino a qualche anno fa, ad esempio, le faccio un esempio così che ricordo a memoria, la Mannina presenta la mozione sul garante dei disabili e si aspetta quasi un mese per poi fare la delibera all'amministrazione e portarle in consiglio. Piccolo appunto per farle capire che clima c'era. Oggi io penso che quello che sto facendo io è questo, pensare al territorio, a me quello interessa, c'è qualcosa dalla maggioranza che va a favore del territorio, che sposo, io la voto, assolutamente. Io sono libero, sono nel Movimento Viglia, ma sono stato sempre libero, perciò faccio sempre quello che voglio e se vedo una cosa che mi sta bene la voto tranquillamente. Andiamo verso la chiusura, 20 minuti a disposizione, sono quasi trascorsi questi ultimi avvicendamenti in giunta, in consiglio comunale, adesso ci sarà la surroga del nuovo consigliere del Partito Democratico. Come riguarda? Guardi, io un giorno in consiglio comunale, in un mio intervento, ho fatto un passaggio dicendo che questi cinque anni di questa amministrazione, tolto l'operatività, ma da un punto di vista politico l'ho intrapresa come una scuola politica, questo consiglio comunale. I corsi di formazione, tra cui mi ci sono messo anch'io, perché prima di parlare uno si mette in mezzo, che sono stato anche tra virgolette un ripescato, perché c'è stata la dimissione di Spagnolo Andorffa, l'assessore, quindi io sono primo eletto per legge, entravo. Però nel corso degli anni... Ma tu vieni da un bel po' di esperienza, giusto? Io ho 20 anni di esperienza, però ti ripeto, non è una questione... ho visto che prima di me, dopo di me, sono stati una sorta... io penso che siamo a 15-16 consiglieri cambiati e diversi assessori, ok? Quindi l'ho reputato a un modo di battuta come una scuola, un corso di formazione politica è stata questi cinque anni, che ben venga, attenzione, perché poi l'esperienza si fa sul campo, l'esperienza si fa in consiglio comunale, perché in un primo acchitto devi ascoltare, capire i tempi tecnici di intervento, le argomentazioni, cioè perché una volta che ti alzi e prendi il microfono non è che puoi andare a... è giusto, anche amministrativo in giunta, tutto questo sostituirsi di assessori, anche lì... Steggisti. Steggisti, lo ripeto, secondo me frenano molto la programmazione, l'operatività di una continuità di uno che inizia a fare assessore, si interrompe dopo sei mesi, ne entra un altro, altre idee, e tutto questo secondo me frena la burocrazia dell'amministrazione. Quindi io dico, parlando del fatto delle spette civiche, ecco perché all'interno delle spette civiche ci vuole anche un po' di politica, perché chi sale politico e chi non sale politico deve fare scuola e deve fare la gavetta perché poi essere... Bisogna anche dire, direttore, che tutti questi anni sono stati caratterizzati dalle vicissitudini anche di tipo giudiziario, bisogna anche dire questo, perciò questi cambiamenti che ci sono stati, l'ultima volta è stato per questo, parliamoci chiaramente. Anche consiglieri che si sono dimessi, molti sono stati per questi, poi alcuni hanno dato la colpa alla sindaca, anche all'opposizione, diciamo c'è stato un po' un miscuglio. Insomma è un continuo sterile, informativo, che l'ho reputato così, in modo di battuta, ma poi se ci fai caso è... Quelli che diciamo resistono sono un po' i consiglieri d'opposizione, questo bisogna anche dirlo, Mannina, Mano Guerra, questi sono sempre gli stessi. Ecco, direttore, voglio fare un punto un po' diverso su... Ma intanto l'anno prossimo si vota. Eh infatti, lei mi ha anticipato, io volevo andare... Ogni tanto mi capita. Io devo dire un po' quello che penso, devo dire che a mio parere questa amministrazione ha fallito politicamente, amministrativamente a tutti gli effetti, ha fallito dalle piccole cose, ci sono tantissimi problemi di vita quotidiana, bisogna risolvere intanto questi, poi i grandi progetti, direttore. Come ho detto prima, l'unica nota positiva di questa amministrazione è l'assessore Mauro, poi vedo soltanto tanto buio, tanto buio, a partire dalla sindaca, a finire dagli altri assessori. E l'obiettivo è quello di fare una grande squadra, una grande squadra di dialogo. Ho visto che in questi giorni si è cominciato a parlare di nuovo di grande città. A mio parere questo discorso che è di nuovo uscito non è un'azione, ma è una reazione a quello che è successo a Misidi Scemi, perché questi problemi vengono vissuti dai cittadini ricini e trapanesi ogni giorno. Oggi ho visto che c'è tante persone che vanno avanti, che ho visto che si è creato due comitati che si sono uniti, che si sono fusi per andare avanti verso questo obiettivo. Vorrei soltanto, direttore, sì, vorrei soltanto che questo si faccia non per esibizionismo, ma per centrare un obiettivo. Certo. Perché se si fa... Lo scopriremo solo vivendo. Si scoprirà solo vivendo, però bisogna cercare di fare i fatti, poche parole e più fatti. Questo ha bisogno Erice e Trapani. Michele Cavarretta, in merito, su questo ritorno di fiamma che puntualmente ogni volta insomma c'è, sulla rettifica dei confini, la grande città, la fusione della crudicina... Questo ritorno di fiamma si ha sempre alle porte di qualche evento elettivo, sempre. Ripeto, io penso che se, come diceva Alessandro, si fa perché c'è realmente la voglia di sistemare e di organizzare una grande città che possa essere Trapani, Erice, Pacego, Valderice, con tante municipalizzazioni, perché reputo che poi nel proprio territorio non vai mai persa la caratteristica strutturale, la caratteristica ambientale, la caratteristica del proprio paese, vai a risolvere molti problemi, perché io penso che l'Unione, per usare una frase fatta, dà la forza, sia da un punto di vista anche nei confronti della Regione, dello Stato, per le sovvenzioni e per la sistemazione e la programmazione di tutti quei confini che vengono azzerati... Questo è il tredunione della battaglia elettorale, il punto di forza della... Sarà un grande argomento che porteranno avanti chi realmente ci crede e non lo prende come sorta di bandiera per poter... Una cosa soltanto, direttore, se posso... In dieci secondi. In dieci secondi. Volevo soltanto fare un appunto sulla questione funierice che in questo momento ha TM che... Non possono essere dieci secondi, però... Però volevo dire qualcosa, perché ora c'è il consiglio e bisogna dire delle cose. Allora, è stato presentato il piano industriale da parte del signor Fauci e del presidente Palermo e diamo merito alla consigliera Mannina che, diciamo, si occupa in maniera più massiccia della questione, ha fatto una commissione congiunta con la prima commissione di cui Michele ne fa parte e è stato esposto il piano dal presidente e dal signor Fauci e i membri di commissione, qui Michele può testimoniare, erano abbastanza entusiasti perché era abbastanza puntuale e preciso. Ma? Aspetti, io non dico ma, l'amministrazione forse dirà ma io no. Bisogna dire che con questo piano si otterranno altre nuove assunzioni, cioè delle 20 che ci sono, addirittura 29, e il comune non dovrà esborsare neanche un euro. Perciò può essere, scusi il direttore, poi lascio parlare a Michele che era lì presente. Ah, perché avevamo finito il tema. Che è già solo la questione, può essere secondo me per i cittadini, bisogna andare per i cittadini e invito l'amministrazione a fare questo e andare per i cittadini. 10 secondi ti do capire a retta. Su questo argomento? Ma reputo che l'argomento funierice, al di là della gestione proprio della funivia anche sul discorso, loro hanno inserito all'interno del piano industriale anche la gestione delle strisce blu, che reputo che una già società partecipata del comune, che a costo zero, nei confronti dell'amministrazione, possa anche gestire questa tipologia assumendosi di nuovo tutti quegli operatori che in questo momento fanno parte di una società, quindi dando continuità all'operatività, penso che sia una cosa importante. Però reputo che in 10 secondi ci vorrebbe una trasmissione, ma anche in presenza della parte dell'occasione, perché non parlo mai degli assenti. Sarà organizzato certamente. Avere anche un confronto e reputo che è un argomento importante che se ne discute già da diversi anni e quindi noi oggi, anche ieri, abbiamo firmato una richiesta, è stata inserita nell'ottile del giorno, di una discussione in Consiglio Comunale su questo argomento. Ci permoreremo di organizzare una trasmissione, un talk show sullo specifico. Reputo che è anche un problema tutta la città. Grazie Michele Cavarretta, Consiglio Comunale Movimento Civers, grazie Alessandro Manuguerra, Consiglio Comunale Aderice, Movimento Via. A voi tutti, una buona serata, arrivederci.